Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Dolci Viaggi Leggeri. Oggi vi mostrerò come andrò a realizzare la ciambella al succo di arancia. Vi lascio subito il video, ciao! La ricetta è semplicissima, vi occorreranno solamente 300 g di farina che ho già mescolato a mezza bustina di lievito, un tuorlo, 200 g di zucchero, un po' di pezzetti di cioccolata, quanto più preferite, mezzo bicchiere di olio, 5 albumi montati a neve e 200 ml di succo di arancia appena spremuto. Io qui ne ho 800 ma non mi servirà tutto per il dolce. Quindi iniziamo subito. La prima cosa da fare sarà versare l'olio. E do una prima mescolata al tutto. A questo punto occorre inserire il succo di arancia. Il 200 ml. E mescolo il tutto. Faccio assorbire per bene tutto il succo e poi inserirò gli albumi, mescolando dal basso verso l'alto. Dopo aver inserito tutto il composto all'interno di una tortiera rivestita con carta forno bagnata e strizzata, sì lo so dovrei imburrare e infarinare la tortiera ma non lo faccio mai perché sennò dopo devo lavarla tutta e a me urta. Poi devo infornarlo, stavamo dicendo, la dobbiamo infornare a forno preriscaldato a 180 gradi. E poi, voilà, la torta è pronta. Bisogna aspettare circa 35 minuti e poi controllare. Ed ecco qui il dolce pronto. Ho aspettato che si raffreddasse un pochino e poi l'ho spolverato di zucchero a velo. Eccolo qui. Se ha delle crepe è colpa mia perché l'ho tolto dalla teglia quando ancora era caldo. Ciao a tutti, arrivederci al prossimo video.